2-1 ecco il successo del Bari sulla regina che era andato in vantaggio al trentasesimo con questo gol di Onorato che festeggia intensamente il suo gol. Ma il Bari maglia bianca pareggia al quarantacinquesimo al termine di questa prolungata azione nell'area calabrese l'arbitro Quartuccio assegna il rigore al Bari. Va al dischetto Maiellaro ed è sua la trasformazione 1-1. E dal ventitresimo della ripresa lo stesso Maiellaro realizza di forza con un gran tiro sotto la traversa il gol della vittoria che porta il Bari a tre punti.